mamma mia ragazzi classe 2002 17 anni io cosa facevo con 17 anni mi contavo i brufoli sognavo la figa colombiana viva la figa colombiana e non facevo un cazzo non so studiavo un pochino non tanto e questo qui ragazzi già nell'ultima partita un bellissimo assist oggi calcio di rigore conquistato in maniera bellissima ci ha splocato questa partita poi dopo mette anche dentro il rigore mi devo solo togliere il cappello ragazzi davanti a questo ragazzo che ha 17 anni è ancora un bambino veramente tanta roba speriamo che resta l'inter speriamo speriamo veramente perché se lo mandano via in qualche maniera se non lo fanno crescere nella nostra amata inter io li vengo a prendere comunque ragazzi in generale siamo onesti una partita abbastanza noiosa non ci sono stati questi alti ritmi come contro il Tottenham penso che l'inter ha lavorato molto li ho visti davvero un po' stanchi il primo tempo davvero non mi è piaciuto devo dire che è stato anche un centrocampo molto molto leggero non so a me in questo 3-5-2 non lo dico solo io lo dicono tutti che conoscono questo questo schema non tutti possono essere così leggeri al centrocampo ci vuole un giocatore tipo una bella roccia tipo uno Melinkovic-Savic ragazzi sarebbe un sogno sarebbe un sogno questo centrocampo è come una carbonara senza guanciale ci vuole proprio qualcosa di ci vuole una roccia lì al centrocampo ragazzi Melinkovic-Savic sarebbe davvero un grande sogno sarebbe davvero davvero fantastico in generale pochi inserimenti primo tempo davvero noioso ragazzi mi pare l'inter non ha fatto neanche un tiro in porta Melinkovic-Savic ha fatto un paio di bellissime bellissime parate poi ho notato non solo oggi anche già nell'ultima partita contro il Tottenham è una mia sensazione scrivetelo nei commenti se vuole pensare in maniera diversa a me mi sembra mi sembra che Scrinia Scrinia è un santo ragazzi non lo voglio criticare ragazzi Scrinia è veramente santo unico sono orgoglioso di lui però mi sembra che soffra un pochino questa difesa a tre non lo so anche quando vedo i suoi movimenti non è molto sicuro come lo era nelle precedenti stagioni poi ho visto anche un po' di problemi comunicativi è stato un po' di volte in ritardo Scrinia non mi ha convinto al mille per cento ripeto ragazzi sono un amichevole oggi c'è un'umidità pazzesca un caldo i giocatori sono stanchi l'ultima partita di questa di questi test perciò non la sopravvalutiamo però Scrinia non mi ha convinto poi in generale ragazzi nel 3-5-2 come a centrocampo sì uno come Sensi va bene che mi è piaciuto molto di più come Barella Barella non mi è piaciuto ragazzi mi è davvero abbastanza deluso oggi un Sensi mi è piaciuto ancora una volta poi ripeto ci vuole una roccia un giocatore fisicamente forte e poi nel 3-5-2 ragazzi i giocatori sulla fascia sono fondamentali fondamentali che praticamente devono correre il doppio perché spesso devono giocatori devono giocare contro due non ci sono due sulla fascia c'è solo uno che deve fare la fase offensiva che deve fare la fase difensiva deve essere un motore tipo Dani Alves tipo Mike Con quando vedo Dalbert quando vedo Cantreva aspettiamo questo Valentin Lassau ragazzi vi ho fatto un video che ha fatto centomila visualizzazioni grazie a tutti dove lo avevo un po' analizzato da quando giocava al Hertha Best e Berlin aspettiamo un po' come giocava come come giocherà però ragazzi Dalbert non si può più vedere io non voglio più neanche dire troppo su Dalbert ragazzi perché poi c'è la gente che mi critica ultime partite quando ho fatto delle partite diciamo discrete discrete niente di più c'è subito la gente vedi Dalbert con Conte farà tanta strada ragazzi resta sempre Dalbert io sulla fascia voglio un top uno proprio una macchina un panzer che proprio va avanti indietro avanti indietro non uno insicuro come Dalbert lo conoscete ragazzi quando riesce riesce quando fa un errore proprio mentalmente poi c'ha dei problemi non è più no e poi anche Cantreva si può essere un buon sostituto però io mi aspetterei qualcosa di altro sulla fascia una mia opinione personale scrivete la vostra nei commenti che ovviamente mi interessa ragazzi con Dogpia con Dogpia con Dogpia proprio non è cambiato tanto anche se avevo sentito che Valenzio aveva giocato abbastanza bene così ancora deve fare sempre deve dimostrare di essere il fenomeno che non lo è come all'Inter me lo ricordo all'Inter a centrocato quando doveva velocizzare la manovra cominciava a fare questi dribbling che era una confusione totale che alla fine certe volte riusciva ma più perché sia gli avversari sia lui avevano la nausea erano confusi questi dribbling mamma mia anche adesso con noi oggi doveva fare il fenomeno quando riesce riesce va bene bello da vedere ma spesso non riesce spesso perde la palla come ha fatto con noi non ha giocato così male oggi ragazzi non lo voglio dire però nella mia opinione a centrocato in quella posizione non devi fare i dribbling mamma mia ragazzi sono adesso ripeto non ha giocato così male oggi ma sono tornato è tornata la mia memoria tutta questa sofferenza questo stato masochismo quando lo dovevo vedere da noi quando cominciava sempre a fare il fenomeno a fare questi dribbling di merda quando riusciva tutti dicevano voi dovete Pogba noi abbiamo con Dogpia invece altre volte perdeva proprio nel momento nel momento più delicato di una partita perdeva dei palloni clamorosi per dei dribbling assurdi stupidi io mi sono incazzato troppo ragazzi perciò con Dogpia mai più lo voglio rivedere l'Inter mai più ripeto non ha giocato neanche così male oggi però poi ve lo ricordate ragazzi il suo bellissimo gol da 30 metri mamma mia ragazzi che giocatore che era con Dogpia anche di nuovo strappagato vabbè ragazzi aspettiamo per il calciomercato aspettiamo Ceco il sogno ovviamente Milinkovic Savic ragazzi ci vuole ragazzi come come della carbonara senza guanciale non la potete fare ragazzi impossibile comunque ci vediamo nel prossimo video sempre forza Inter non sopravvalutiamo questa partita che è stata abbastanza deludente soprattutto nel primo tempo secondo tempo lì ho visti anche più si è visto che Conte ha parlato con loro erano più motivati erano più sì più più aggressivi mi sono più piaciuti però ragazzi ripeto non la sopravvalutiamo è stato l'ultimo test lì in Spagna al sud faceva un caldo le gambe sono stanche sono pesanti Conte lo sappiamo li ha fatto lavorare tanto vediamo ragazzi vediamo allora ci vediamo in un prossimo video iscrivetevi al canale di Youtube seguitemi su Instagram sempre solo forza Inter ragazzi seguitemi su Instagram ripeto perché prossima stagione sarò abbonato andremo allo stadio faremo delle live vi porterò con me con me in tutti questi viaggi pazzi da Germania in Italia a Milano per sostenere la mia Inter non vedo non vedo l'ora che inizia perciò seguitemi anche su Instagram ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi vi voglio bene grazie per i 28.000 iscritti che adesso abbiamo raggiunto davvero vi voglio tanto tanto bene un grande abbraccio a tutti iscritti di qualità ciao